Il centro-sinistra vacilla nei balottaggi dei comuni più importanti di Puglia, confermando che il centro-destra, se non del tutto morto, riesce ancora a fare il risultato. Eccezione a Trani, dove per anni hanno governato amministrazioni di centro-destra, l'ultima spazzata via e conclusasi miseramente con le manette al sindaco riservato. A conquistare la poltrona di primo cittadino è stato Amedeo Bottaro, giovane avvocato il quale ha avuto gioco facile del suo avversario Antonio Florio. Delusione ad Altamura, dove Emiliano e il Partito Democratico tifavano per Antonello Stigliano. Giacinto Forte è oggi a capo di una coalizione di moderati. Bissa Modugno per Nicola Magrone, l'ex magistrato alla guida di una coalizione di liste civiche, ha superato il pidino Fabrizio Cramarossa. A Cerignola affermazione del centro-destra con Franco Metta, che ha recuperato lo svantaggio del primo turno battendo Tommaso Sgarro del centro-sinistra. Per il resto il centro-sinistra si afferma a Mola di Bari, Manfredonia, Latiano, Casa Massima e San Vito dei Normanni. Il centro-destra è più forte nei comuni di Carovigno, Capurso, Ceglie, Messapica e Oria. Nella vicina Basilicata fa ripuntati su Matera, dove il centro-destra strappa al centro-sinistra il comune. A Raffaello De Ruggeri il successo nel balottaggio.